dobbiamo fare circa quattro chilometri a piedi è dura però è meravigliosa il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info ragazzi siamo ancora in cammino ragazzi siamo quasi arrivando al rifugio ragazzi siamo arrivati quasi al rifugio ragazzi siamo arrivati al rifugio Cervati eccoci qua ragazzi siamo entrati nel rifugio ragazzi siamo arrivati al rifugio Cervati